Aruko iscrive Anamichi al club del basket e c'è questa cosa del club del basket io non c'è poteva essere una squadra tranquillamente però è il club del basket che fa molto clan di Celentano però soltanto per me che sono anziano e per voi sicuramente no comunque Aruko Aruko ti rigira come ti fa fa esattamente si potrebbe mettere a vendere i corsi per insegnare alla gente a chiudere i contratti Aruko è una roba tempo che finisce la scuola te la ritrovi a Dubai con Big Luca Aruko Giacomo Freddi la mattina alle 5 quando Sarza c'è Aruko con i campanacci con il sorvegliante di collegio è una roba Aruko comunque sia un'amica di Aruko gli dice ma non è che te insomma tutta sta gente no questi ragazzi nuovi e te t'hai cominciato così d'amblè t'hai cominciato a frequentare ma ci hanno una nomea un po da attaccabrighe cioè se ne parla di qui e Pogibonsi gli fa di noto comune dei Giappone e Pogibonsi no cioè ci hanno proprio se sembrano un po dei mezzi teppistelli ma te sei sicura di di Avea che fa con e lei candidamente mi cade dal pero e gli fa ma chi Anamichi è la prima volta che conosco qualcuno con cui riesco a parlare così liberamente questo succede però Aruko perché Anamichi mi simbambola nel momento in cui vede te capito cioè quando quando entra è lui mi mi sbiasce non è più in grado di di proferir parola e quindi te tu puoi parlare liberamente succede per questa cosa tanto è vero che gli amici di Anamichi si approfittano un po di questa cioè hanno hanno percepito il debole di Anamichi nei confronti di Aruko e quindi provano un po appungolarlo provano un po gli fanno ma scorta un po Anamichi ma è Aruko no? Aruko? Ora che ci pensa Aruko? Aruko è bellina una bella ragazza è simpatica è intelligente è carina anche nei modi capito è educata sa fare la melanzana alla parmigiana Aruko perché c'è sempre un po questo retaggio di patriarcato dietro le cose non è che per caso gli fanno è fidanzata cioè te hai dato per scontato che lei sia single lì pronta belle per te ma non è che per caso e a quel punto lì Anamichi perde letteralmente il cervello perché in effetti lui non gliel'ha mai chiesto e oltretutto quando hanno cominciato un po a parlare lei ogni tanto ha ritirato fuori tal Ruhawa è un nome capito di uno e lui ancora non conosce che lei ogni tanto ha ritirato fuori e quindi lui a quel punto è assalito a tal punto dal dubbio che va da Aruko e glielo chiede se è fidanzata con Ruhawa lei nega però è scossa cioè è sorpresa e è un po scossa dalla domanda specifica e quindi si mette a discutere di Ruhawa si mette a raccontare a Anamichi di quella volta che alle medie Ruhawa aveva fatto 51 poi perché anche Ruhawa gioca a pallacanestro se no a Ruhko vabbè insomma di quella volta che Ruhawa aveva fatto 51 punti e ci tiene a precisare 51 punti con 4 dunks e purtroppo c'è questa cosa della traduzione che è tremenda 51 punti con 4 dunk e tra l'altro se ci pensate un attimo Ruhawa 51 punti con 4 dunk può voler dire soltanto due cose o che tira da 3 che roba da chiodi o che pure viceversa è uno che mi lucra un quantitativo di tiri liberi importanti che mi va parecchio in luna un pietro a radori di Giappone capito però questa cosa qui ancora io non la posso sapere perché non me l'hanno ancora mai inquadrato e quindi non so se c'ha la barba questo è e qui succede il patatrack perché lei non è fidanzata con Ruhawa e però è innamorata di Ruhawa amore non corrisposto chiaramente Anamichi a questo punto diventa ingiocabile perché di questo passo via la storia tra l'altro prende sinistre sembianze di piccoli problemi di cuore il pomeriggio su Italia 1 però io sono fiducioso che possa essere soltanto una leggera derapata tanto è vero che subito dopo ritornano quelli di terzo anno presente no? quelli dell'altra volta che gli fanno Anamichi oh ma noi ci sa qui discorso a mezzo no? che c'era da contromenassi dell'altra volta noi ti si continua a aspettare dopo la scuola il pomeriggio su un terrazzo verrai a questo giro che c'è da menassi no? e stavolta Anamichi è intenzionato ad andarci ma non da solo perché si aggiunge tal mito che non è un modello di Arfa Romeo bensì un amico di Anamichi il fatto è che sul terrazzo c'è proprio Ruhawa a dormire non so perché a dormire su lui era beato a dormire sul terrazzo vede arrivare questi del terzo anno non sente storie piglia e gli mena lui pure quindi è la seconda volta che questi del terzo anno vengono menati da uno del primo perché anche Ruhawa è del primo anno come Anamichi e qui si chiude il secondo capitolo e si ricomincia subito dopo con la prima immagine del capitolo successivo che è questo sguardo tra Ruhawa e Anamichi è il primo sguardo no? tra i due è uno sguardo un po' anni e anni di Olly e Benji mi fanno subodorare il fatto che questi due possano diventare anche amici magari iniziano da antagonisti da rivali perché ipotizzo essere più o meno i più forti della squadra o giù di lì però poi nel corso del tempo si può anche stabilire tra i due non lo so lo vedremo con l'andare delle puntate nel frattempo per ora c'è Ruhawa che sanguina qui dalla fronte perché ha menato tutti quelli di terz'anno che nel frattempo sono tutti stessi sdraiati per terra moribondi sui terrazzo e pare che sia stata Anamichi o meglio questo è quel che pensa Ruhawa che arriva sempre in queste situazioni den pass vede che Ruhawa è mezzo sanguinante vede accanto a lui che c'è Anamichi non fa caso a tutta la moria di quell'accanto dice l'hai menato te a Ruhawa e quindi gli fa un'onda energetica di urla perché questa è come la smutandata è una caratteristica dei giapponesi l'onda energetica è una caratteristica dei giapponesi che fa parte proprio cioè noi se si facesse noi un fumetto si farà probabilmente io non frequento si faranno i fumetti italiani penso che i personaggi vadano a mangiare la pizza beh no e loro invece hanno questa cosa che suonino in mandolini perché c'è questa cosa che gli italiani suonano in mandolini io non ho mai voi avete mai visto nessuno suonare in mandolini io penso di non sapere neanche come è fatto un mandolini forse l'ho visto una volta ma perché c'è questa cosa comunque Ruhawa risponde di traverso a Ruho che voleva curargli la ferita e quindi Anamichi sbrocca e gli mena stavolta per davvero per bene e quindi finisce a cazzotti fondamentalmente come tutti i più grandi film di supereroi ci avete fatto caso più che i supereroi sono tecnologici con tutti i macchinari con tutti i ritrovati i mezzi o più che magari hanno i superpoteri con le magie con i fasci l'ase e più che finiscano a pigliarsi a cazzotti alla fine del film finisce sempre così questo potrebbe essere un retaggio della cultura no? italiana che potrebbe essere stato noi in mandolino Bud Spencer e Terence Hill questo ad ogni modo Ruhawa se ne va con questo neologismo onomatopeico bellissimo che è barcol barcol Aruho è chiaramente arrabbiata con Anamichi e Anamichi è chiaramente disperato all'ennesima potenza per questa cosa qui e qui si chiude il capitolo con una scritta proprio palese che ti spiega che ti fa presente e questi due questo è stato il primo incontro tra Ruhawa e Anamichi e poi sarebbero diventati eterni rivali e te lo dicano con questa inquadratura da lontano del liceo della scuola che fa molto serie tv ospedaliera sembra molto capito l'intro del San José San Bonaventure o del Princeton Place Borough perché si chiamano sempre in questi modi strani queste ospedali Careggi non andava bene no e questi sono capitoli due e tre del primo volume ora io non so come portarla avanti questa serie avevo pensato per non dargli una scadenza definita e programmata né che fosse settimanale né che fosse bisettimanale né che fosse mensile o altro di far decidere a voi di far soppessare a voi quel che è il sentiment in questo momento della serie e quindi pensavo che facciamo uscire il prossimo episodio a numero mille mi piace come l'ingegner cane così che vedremo quando sarà io sarei intenzionato sinceramente a portarla avanti anche se poi ci vorranno dei mesi a finire tutto magari però sono curioso di vedere dove potrebbe andare a parare perché secondo me ci sono le prospettive per tirare fuori una bella storia da quel che mi è piaciuto fino ad ora secondo me a meno che la finanza non arresti a ruco allora lì non lo so a non lo so Grazie a tutti